Professor Francesco Alberoni, il sociologo per eccellenza, autore di best seller tradotto in tutto il mondo, editorialista di punta del Corriere della Sera e Ora del Giornale. Su di lei si fanno tesi di laurea e monumentali, pesanti biografie, ha creato lo Yulm, l'Università delle Scienze e della Comunicazione, ha ridato vita al Centro Sperimentale di Cinematografia e quant'altro, instancabile, stato storico rettore di quell'Università di Trento negli anni della contestazione, là dove gran parte si è mosso, forse anche cominciato. Ma lei però, la contestazione del movimento studentesco l'aveva già visto e studiato in America? Beh, io mi sono occupato di movimenti collettivi molto presto. Perché? Perché avevo, all'età di 30 anni, facendo una libera docenza, non so se in psicologia o in sociologia, poi ho fatto tanti concorsi, tutti in fretta, ho avuto un'idea originale. Ho pensato che per passare da uno stato sociale strutturato a un altro, devi passare in mezzo attraverso una discontinuità che ho chiamato lo stato nascente. Quindi lei ha uno stato istituzionale, ha uno stato istituzionale, ma il passaggio è stato nascente. È il concetto di stato nascente, che adesso c'è anche in Wikipedia, è entrato proprio. Dove tutto ridiventa possibile, si fluidifica tutto, scoppiano gli ideali, c'è un'immensa energia creativa e quindi questa cosa l'avevo trovata nei movimenti, perché esplodono improvvisamente, di colpo una cosa fatta da poca persona dilaga e crea una solidarietà. Tutte le rivoluzioni, no? E di conseguenza io l'avevo studiato e poi in particolare in America, ma anche nella storia. Nella storia, da quella più antica fino ad oggi. Infatti il mio libro Movimento d'Iluzione è di fatto una teoria della storia. E ci torniamo. Se dovessero chiederle cosa è stato il 68 così? Un revival marxista, nell'ambito dei movimenti collettivi giovanili di quegli anni. Un fenomeno più culturale e più politico? Più politico. Intendiamoci, con la parola 68 la gente intende tutto un coacervo di movimenti estremamente eterogenei. Una parte politica, una parte di carattere libertario, c'è tutto il movimento hippie, c'è tutto il movimento femminista, tutta questa gran roba la chiamano il 68. Io parlo del 68, dell'anno 68, quindi io ero attretto. Che è una cosa diversa dagli anni 70, il 68, no? È molto dicendo. Per il mio 68 non c'era il terrorismo. È chiaro. Cioè c'è stato uno slancio iniziale che poi si è... Era il momento nascente, no? In cui esplodevano costantemente questi movimenti. Lei si sentiva protagonista di un cambiamento? Io mi sentivo protagonista di un movimento e l'ho vissuto in me, ma anche molto lucido del guidarlo. Sì. Lei ha avuto allievi di peso e parecchi si sono perduti, vero? Mi dispiace soprattutto per Renato Curcia, perché secondo me Renato doveva fare il Muglio Tecario, la studiosa. E mi dispiace per Mauro Rostagno, perché l'ho ucciso dalla mafia, però lui non c'entrava niente con il terrorismo. È vero che molti di questi ragazzi sono nati nell'ambiente cattolico, erano ferventi? Tutti più o meno cattolici a quell'epoca. Non erano particolarmente coinvolti, secondo lei. Senta, lei era anomalo tra i professori di allora. Io sono anomalo sì. Sì, non solo perché era molto giovane, ma anche perché era un po' bohemian. Ma io ho partecipato emotivamente in quel mondo. Ed era molto alla mano anche, cercava un rapporto con gli studenti, era molto poco accademico. No, no, sì, molto poco accademico, ma io ero un leader. Io sono tra loro come un altro, uno di loro, vestito come loro, però parlavo del rettore. Ho discusso con loro, ho fatto i programmi con loro e poi però dopo io davo gli ordini. E com'è se la cavava col principio d'autorità che il T68 voleva… Abbiamo fatto un convenante, abbiamo fatto l'accordo. Eravamo sei di loro e sei nostri, un avatar d'accordo e dice ragazzi facciamo queste cose e adesso io obbedisco e tu obbedisci. E bisognerebbe fare così anche oggi? Non lo so, nel senso di sì. Perché che ne è stato dell'autorità, del rapporto con i maestri che sono fondamentali? Ma io avevo una forte autorità, ma loro avevano una forte autorevolezza. In che senso autorevolezza? Eh, se mi dicevano guarda che succede questo e quest'altro, dobbiamo provvedere. Io stavo attento, non è che fosse… Quando c'è stato un assalto, sembrava che gli sfacessero l'università, siamo venuti a chiamarmi, siamo andati insieme, abbiamo aperto insieme le cose… Quindi non era un rapporto alla pari, ma era vero. Io gli ho fatto gestire la mensa, è stata autogestita perfettamente. Poi l'anno dopo è arrivato un sacco di gente nuova che veniva… Ecco, questo è molto interessante. Perché ha dato le dimissioni dal lettore? Perché è arrivato un mare di gente che veniva a fare la rivoluzione, perché non c'erano i soldi per i presalari, perché i trentini si erano stufati, perché io ho fatto un errore solo. Dovevo chiudere l'iscrizione o limitarle. Non potevo pensare che mi si iscrivano 4.000 studenti. E beh, perché forse tirava abbastanza. Ma no… L'ambiente… Poi erano andati via tutti i vecchi, capisci? Sì, lei ha scritto… Io mi sono stancato e mi sono andato. I ragazzi che hanno creato il movimento studiavano. Sì. Quelli venuti dopo erano un branco, senza progetti, con idee confuse, marxista rivoluzionari e sapevano solo recitare slogan. Sì, non so, si sono occupati addirittura… La loro casa erano studenti, si sono occupati la mensa loro, che gestivano, autogestivano. Quindi in realtà è arrivata la gente che non aveva a che fare con il movimento, capisci? Quindi il 18 politico non è 68. Non erano membri del movimento. Poi c'era il movimento che è una struttura e lei gli parla con le strutture. Questi erano dei sbandati. Il 18 politico non aveva niente a che fare con… No, poi non avevano anche guardati quelli. Senta… Non valevano niente, capisci? Poi hanno dovuto… Poi dopo hanno chiuso le iscrizioni, io stesso le avrei chiuse e poi diventa un'università normale. Professore Alberoni… Il 68 e il 77 è un movimento nascente, capisci, in tutto il mondo. Il 77 è già molto diverso dal 68. No, ma c'era già il terrorismo. Lei è stato il primo in Italia a studiare i movimenti collettivi come… È l'unico. Come… No, anche è l'unico. Guardi, gli altri perdono. Va bene. come origine di quasi tutte le formazioni sociali. Sì. Quando è che le passioni, gli ideali, lo slancio iniziale si trasformano? E perché? Ma vede, un'esplosione non dura sempre. L'esplosione è un'esplosione. È un gas che si dilata, che abbatte, crea dei vortici, può fare una marea, ma non dura sempre. Poi si placa, si calma, si diventa rigido. Un innamoramento. Lei è un innamoramento appassionato, che è un movimento di due persone. Si accende, ciascuno vede trasfigurato l'altro. Hanno mille pensieri, mille ragionamenti, fanno un'immensa attività intellettuale, oltre che erotiche. Ma non c'è un'erotica intellettuale fra di loro. Poi, però, a un certo punto arrivano delle regole, si costituiscono dei patti, si ritorna all'istituzione. Che non è sempre male, è giusto che certe volte ritorni. I movimenti sarebbero potenzialmente creatori di solidarietà. Creano un'immenso solidarietà. Sociale. Ma anche antagonista. Sì, è ancora così, professore. Sì. Guardi, l'ultimo movimento italiano è quello di Grillo. Ha cambiato volto però il movimentismo. Ho capito, ma all'inizio Grillo faceva di cagnare tremende lì, vaf, 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 tutte queste scene. E poi la struttura del partito è una struttura di tipo anarchico, con Casaleggio. Uno uguale a uno. Poi lentamente adesso diventa un partito come gli altri, piano, piano. E lei dice che non è sempre un male. No. Professore, lei ha iniziato… Io temo molto i movimenti che diventano autoritari e terroristici. Quando cioè si mette in moto il meccanismo del dominio, come nel stalinismo, nel nazismo, in cui il movimento cessa di essere un meccanismo anche democratico, di dialogo, di costruzione, e qualcuno se li impadronisce e schiaccia tutto. Lo usa come un martello per opprimere la società. Lei ha avuto occasione di parlare con qualche suo ex allievo o ex terrorista e ragionare su queste cose? No, con i miei ex allievi sempre. Non ha importanza di parlare. Da noi non c'era il terrorismo a Trento. Beh, insomma, era un inizio. Maracagol è nata lì. Sì, ma non la famiglia l'ha fatta a Trento, è venuta a Milano, è andata a Sid Simens e lì era tutto un altro mondo. A Trento non c'era il terrorismo. Cos'è che ha portato il movimentismo a reggimentarsi nel terrorismo? Ma quante volte? Una moda, c'è Guevara, quella gente lì. Solo questo, sì? Sì. C'erano pressioni esterne? Ma no, c'erano niente, stupidaggini. Pensavano di essere in America Latina. Io gli dicevo, ma non siete in America Latina voi, siete in Italia. C'erano le stupidaggini le avete in testa. E i miei amici non mi credevano. E qualcuno non ci ha creduto. Professore, sfogliarla è un po' complicato in poco tempo in televisione, però facciamo qualche passo indietro. Lei ha iniziato le sue ricerche dalla psicologia. Noioso. Non dalla sociologia. Perché ha studiato medicina, no? Sì, sì, ho studiato la psicologia. Mi sono occupato dei test e ne ho ricordato anche l'impressione che fossero delle cose inutili e disgustose. Ah, glielo diciamo agli psicologi. C'ho lavorato moltissimo, ma mi hanno rotto l'anima proprio. Gli psicologi che dicono… Nel passato diceva che era un mio metodo di studio. Perché alcuni problemi grossi li avevano risolto con il mio metodo. Per esempio c'era un problema, la Bassetti aveva il problema di fare le tenerie bianche oppure colorate. Non è un problema da poco, sa? Perché deve fare degli impianti che poi durano dieci anni degli investimenti. Io ho preso la Topolino, la mia macchinina, ho girato l'Italia. Da Bolzano fino al Sud ho domandato alle donne se volevano bianco o colorato. Tutte, dalle più povere alle più moderne, mi dicevano colorato. Sono tornato alla Bassetti e gli ho detto fate il colorato. Non c'è bisogno di fare altre ricerche. E queste donne non volevano sposare i contadini. Volevano emigrare nelle città, sposare un metalmeccano, magari uno della Maserati oppure dell'Alfa Romeo. E volevano la lucidatrice, volevano la telefosora. Le donne hanno fatto la rivoluzione. Le donne si sono sforzate prima. E i sociologi si lamentò, poveretti vorrebbero tornare al loro paesello. Ma quelli del paesello del cielo ci avevano fatto su una croce e non la volevano neanche vedere. Non avevano capito niente. E io allora mi sono dato conto che io usavo il mio metodo. Quindi sono i consumi che spingono la società. Io mi sono occupato molto dei consumi. So. Ho scritto anche un libro importante, Consumi e società. Ancora oggi è così? Certo. Anche se adesso la pressione delle multinazionali è così oppressiva e il manco che stanno facendo sul nostro cervello attraverso il monopolio in fondo dei mezzi di comunicazione fa sì che noi siamo obbligati a prendere delle cretinate che ci obbligano a prendere. Quindi non è più una scelta libera. È meno libera. È sempre meno libera. Parentesi. L'incontro con padre Agostino Gemelli. Lei ha dato anche a suo figlio un secondo nome, Agostino, no? Beh, è stato il mio maestro. Il mio maestro non tanto di psicologia, ma il mio maestro spirituale. Lei era cattolico? Sì, ma non tanto. Però con padre Gemelli io volevo... Lui era un mistico. In che senso allora era il suo rapporto con... È stato mio padre. Con la fede che rapporto aveva e ha? Ma con Gemelli io avevo la fede. Quindi bisogna avere qualcuno che te la comuni. Ma vedi, è un rapporto strano. Gemelli era mica una persona normale. Lei quando parla con un genio deve usare altre categorie. Un genio riconosciuto o non troppo? Beh, uno che riesce a fare l'università cattolica e dare questo impulso in tutto il secolo ed era facendo tante cose. È stato un postaggio. Ed era un uomo che umanamente... Capisce, è come fosse stato mio padre o mio nonno. Mi voleva bene. Io volevo bene a lui. Quando era malato io stavo vicino al suo letto. Il mio rapporto era questo. È ovvio che anche di fede. Ma non è che il pregasse con l'Amazon o un altro. Poi io fondamentalmente sono religioso. Quindi mi costava fatica. Poi lui non chiedeva mica niente. Non era mica un bigotto per la Gemelli. Professore, il legame col mondo della pubblicità e delle imprese è un altro ambito poco frequentato dagli accademici. No, ma lì perché conoscevo diversi imprenditori, io dopo che ho fatto la cosa della Bassetti... Bassetti, della Valle, Mulino Bianco, l'Altoz, insomma... Ma io ho un notevole intuito, sa. Cioè di fronte a un problema complesso ho la facilità di vedere una soluzione semplice. In genere ho quasi ovvie per me. E quindi, diverse volte, con degli imprenditori famosi, gli ho dato un suggerimento intelligente. Perché tanti accademici e intellettuali, che sono nati tra l'altro proprio dal movimentismo studentesco, hanno un atteggiamento snobistico, esprimono quasi una superiorità morale, un disprezzo verso la gente? Ah, la gente non lo so, verso di me, certamente. No, ma anche verso la gente, no? Ma no... C'è un atteggiamento degli intellettuali così elitario, così distaccato dalle persone, dai loro bisogni? Sì, tenga presente che un intellettuale, uno studioso, fa molta fatica a studiare. Poi quando guarda Facebook gli hanno le braccia e... Lei frequenta o ha studiato i social? No, non mi interessa. Perché? Ho chiuso tutto. Non ho tempo. Che cosa sta lavorando adesso? Sta lavorando ancora sul... Il titolo sarà l'amore, ma com'era un po' com'è cambiato. E probabilmente lo farò in collaborazione, non da solo, ma con una donna. Perché la sensibilità femminile, tanto le donne hanno cambiato molto, è molto diversa da quella maschile. Io certe cose non le so. Com'è cambiato il modo di amare? Ma l'innamoramento non è cambiato. Appunto. E sono convinto anche che moltissima gente si innamora, ma in genere lo distrugge all'inizio. Oggi c'è una tendenza culturale a rompere la coppia. Perché? Per paura? Ma in parte per ragioni economiche, perché tanto te la fanno rompere. Proprio che non hai soldi per fare. E poi per essere liberi di... Quando lei ha spaccato il sesso dell'amore, il sesso ha anche una sua volontà di liberarsi. E purtroppo lei può essere libera sessualmente, ma l'altro che è innamorato non lo supporta. Professore, innamoramento e amore è stato un successo mondiale. L'innamoramento lei l'ha letto come la fase rivoluzionaria e l'amore la fase più istituzionale. In senso negativo o positivo? No, no. Positivi tutti e due. Io ho fatto una distinzione. Quella che oggi conta molto. Gli faccio un esempio. I psicologi hanno un problema. Quello che chiamano la dipendenza emotiva. Ne va sento parlare anche lei. C'è una donna innamorata di un uomo. Bello. Fanno l'amore in modo folle. Poi lui parte, va via, va con altre. E lei aspetta, aspetta, aspetta. Sperando di farlo innamorare. Poi lui torna, di nuovo si incontra, non finisce. Poi lui riparte ancora. E quindi questa poveretta è sempre lì attaccata. Può capitare anche al maschio, ma di solito la via. Attaccata a uno che sperando di farlo innamorare. Ebbene, è impossibile far innamorare uno. Perché ci si innamora in due. Il meccanismo dell'innamoramento non ha niente a che fare col sesso. Perché lei si può innamorare una persona senza nessun desiderio sessuale. San Francesco, come si chiama? Chiara. I re innamorati. Forse. No dai. Forse. Ma si, ma è innamorato certamente. o comunque un'infinità di casi ci sono. Quindi uno può avere dei rapporti sessuali che genere non producono legami forti. Se lei vede un uomo e una donna che hanno rapporti sessuali intensi e uno dei due è innamorato. È l'ideale. Come? È l'ideale quando c'è l'innamoramento e l'amore insieme. Sì, ma che siano tutti e due. È chiaro. Spesso uno solo. E lei vede una cosa? Le coppie che regolano spesso uno solo. E l'altro si sacrifica? No, l'altro sta male, sopporta, piange. Quindi la famiglia è una possibilità ancora o è una costrizione sociale? Anacronifica oggi? No, la tendenza spontanea di un uomo e una donna è di avere dei figli, la famiglia. se soltanto ci fossero più soldi in giro sarebbe anche più facile. Certo, la natalità crollerebbe lo stesso. Una donna vuole avere un figlio, due al massimo, perché poi vuole anche fare la carriera, ha una sua vita professionale, quindi ci faceva un tempo. Quindi la natalità cala, ma non è fatto detto che la gente non si innamori, non si voglia bene. Poi magari bisticcia, poi cambia. La vita è lunga, eh? Sono 80 anni? Sì, per qualcuno sì. Come per qualcuno? Tutti campano tutti un sacco di tempo. Sì, io vedo uno sgretolarsi del bene. C'è una corrente contraria alla coppia. C'è una forte corrente culturale che non vuole la coppia, che non vuole l'unione, che vuole sbriciolare, se dipendesse da loro non ci serve più niente. Perché? È una corrente che è iniziata negli anni Sessanta, che valorizza l'individuo, il sesso. Io quando ho scritto Innamoramento e Amore, sa qual era il libro che andava di moda? Porci con le ali. Quindi io sono stato quello che ha combattuto questa tendenza. Io sono l'unico che parla dell'Innamoramento. Mi hanno insultato in tutti i modi, però i miei libri sono trotti in tutto il mondo e anche riconosciuti nell'Accademia. Ma perché io sostengo che l'Innamoramento è una cosa che è indipendente dal sesso e poi si può congiungere. Quindi sono dei meccanismi. il rifiuto che c'è stato sul tema dell'Innamoramento è che la gente non ammette che ci sia una sorta di fuoco che può unire due persone e che consente una comunicazione, una visione in profondità che altrimenti non ci sarebbe. Poi puoi costruire. Ma una coppia che non avesse mai avuto un momento di innamoramento sta in piedi, non possono vivere insieme. Vivono da amici, ma loro chiamano una coppia di amici. Quindi l'Innamoramento resta importante. È come se ci fosse un processo disgregativo che spriciola, che spriciola, che spriciola. La società liquida di Bauman è un processo ricostruttivo che ricostruisce, ricostruisce, ricostruisce. Mi occupo di quello ricostruttivo. Con uno sguardo positivo, nonostante… Vabbè, insomma, se uno si occupa della ricostruzione, certo è più positivo di quello che si occupa solo della distruzione. Non è vero che andiamo verso il liquido, andiamo verso lo scomposto, ma ci sono forze costantemente ricostruenti. Dove le vede queste forze? Dappertutto. Faccia qualche esempio. Tutta la gente che si innamora ricostruisce, ricostruisce la coppia che prima si era rotta. Sto pensando anche al nostro ambiente politico e sto pensando a quello che lei… Siamo in un periodo così brutto. Speriamo che non facciamo la guerra, guardi. Eh, certo. E lei diceva, in quel 68, che era disgustato dalla politica, che lei non credeva nella politica in quanto miscela di cinismo, tradimento, menzogna e feroce. E cosa stanno facendo adesso? La stessa cosa. Anche a livello internazionale. Cosa hanno fatto in Siria? Cosa hanno fatto a Gheddafi? Perché questa lotta fra americani, inglesi, francesi per impadroniarsi da Siria, la russa che c'è in mezzo, l'Arabia sul dito, forse ha interessi. Non mi venga a dire che è uno spettacolo edificante. Non è certo guidato dalla morale o dagli ideali, ma del più brutale e schifoso interesse. Quindi quello slancio di cambiamento e di ribaltamento di certe posizioni degli anni… Continuo ad esserci. Continuo ad esserci. Del movimento hippie. Non c'è adesso. Non c'è più. Cioè, una rivolta contro la guerra in Vietnam non è più possibile secondo lei oggi? No, non c'è la guerra. Beh, insomma, la guerra c'è in altre parti del mondo. No, non c'è la guerra. Qui ci sono dei potenti che hanno deciso di fare delle azioni. Il popolo non c'entra qui. La guerra è là. È di un altro popolo. È di altri popoli. Sì. Sono là e sparano. Si fanno la guerra per interporta a persona. Non è il Vietnam. Il Vietnam è stato coinvolto il popolo e si è ribellato. Lei era sceso in piazza? No, io non ero mai sceso in piazza. Perché? Perché non ero mai sceso in piazza. Io guardo gli altri. Ma riesci a distaccare lo sguardo professionale qualche volta o no? Mai? Io partecipo e poi mi distacco e guardo professionale. Professore, ancora una cosa. Il rapporto con i suoi figli? È ottimo. E hanno riconosciuto la sua autorità? Beh, adesso è un pochino meno. Vabbè, non adesso, ma dico negli anni in cui di solito ci si contrappone. Ma io sono anche uno tollerante. Sì? Un bravo padre? No, non sono un bravo padre, ma sono un tollerante. Non sono un autoritario. Quale pensa sia la cosa più importante che ha dato ai suoi figli? Ecco. La cosa più importante? Beh, i miei figli sono molto bravi. Alcuni miei figli sono bravissimi. Non so, forse ogni altro niente, forse erano così loro. Un minimo di serenità. E la serenità si basa… Fu una certa mia sicurezza. Il fatto che loro non si sentivano mai abbandonati. Lei si è mai sentito abbandonato? Io sì. Io me ne frego. Insomma, è stato difficile credo crescere negli anni della guerra, no? No, no. Io stavo sempre dentro un tollerante. Io non ho vissuto. Io fino a 15 anni, io vivevo come un boscimane. Leggevo, ma non ho partecipato. Leggevo, sentivo la radio, ma io non mi sono mai voluto mescolare alla gente. Io alla guerra sono andato via. Ho anche scritto. Sono andato via. Se devi fare una cosa che non mi piace, io vado via. Infatti, da Trento, quando hanno iniziato a fare botte, perché volevano fare botte, io sono andato via. Fate botte. Allora io, quando è arrivato un tizio che non mi piaceva, che va a fare… Io non firmo niente e vado via. Cioè, io non sono un combattente. Io ti pianto lì e vado via. Vado a fare un'altra cosa. E si può combattere anche con la resilienza, no? No, no, io vado a fare un'altra cosa, che è più semplice. Vado a occuparmi della scuola del cinema, vado a fare il presidente della RAI, vado a scrivere… Mi faccio un giornale, mi invento un nuovo libro. Cioè, io non mi batto per tenere questa poltrone. Non si lascia a lei. Lei vuole questa poltrone. Si tenga la poltrone. Io vado ad occuparmi con lui, che dobbiamo fare una cosa nuova. E perché invece l'attaccamento alle poltrone è il metodo con cui si pensa di inquadrare la vita? La maggior parte sono stupidi. La gente geniale crea, inventa. Siamo ancora un paese creativo? Ma no, sì. L'Italia è piena di gente creativa. L'Italia è un paese umiliato, un bel esservito. Noi siamo bastonati. Sai che ci bastonano molto, eh? Ma c'è un sacco di gente creativa nel paese. Io sono stupefatto di quanta brava gente ci sia. Ci sono anche un sacco di coglioni, eh? Andiamoci venire. Soprattutto molte donne anziane hanno abbandonato, hanno interesse culturali, niente. Giocano solo a burraco. C'è una parte della gente che si è ritirata, eccetera. Ma c'è un sacco di gente in cambio. Ma non ha le risorse. Lei vuol fare un'impresa. Non riesce a fare un'impresa in Italia. C'è una macchina burocratica ottocentesca. È un incastro malvagio tra la burocrazia, la giurisprudenza e il politico. Ma l'italiano è un popolo intelligente e che sa assimilare tutto. Noi assimileremo tutti. L'abbiamo sempre. Sono duemila anni che assimiliamo tutti. Vuoi che non riusciamo a assimilare adesso? Cioè, arrivano 10 milioni di persone e non la assimiliamo. Siamo molto tutti, li sai. Però ci trattano male. La sua paura e la sua speranza? La mia paura è che ci trattino male gli europei, questo strapotere in fondo degli inglesi e degli americani. Alla fine dopo, se noi ci ribelliamo e facciamo qualcosa, ci schiacciano economicamente, capisci? E' come uno che ha un pugno forte e un pugno in faccia. Il nostro popolo non lo merita. E la mia ha detto? Speranza. E la mia speranza? Non sa che poi tanto le cose cambiano. E la speranza di Francesco Alberoni, personale? La mia speranza è di continuare a vivere in pace. Me la regala una canzone? O una musica? O un'aria? Me l'aveva chiesto prima, ma non mi viene in mente il titolo. che sarà Non piangere io di Puccini. Grazie allora. Della tua Rondò. Finiamo in crescendo. Grazie davvero. Grazie a lei. Non piangere io Se in un lontano giorno Non hai otto sorriso Per quel sorriso Dolce mia fanciulla m'ascolata Il tuo signore sarà Il tuo signore sarà E la mia esperanza